Ciao a tutti, siamo qui con Gianmarco. Buongiorno, ciao Sonia. Volevo sapere un po' come è andata in questi giorni, come è stato avere associazioni giocherebili qui, se ti sei divertito, se ti è piaciuto averci o se invece ti abbiamo stressato non dite l'ora che ce ne andiamo. Assolutamente no, è stato un piacere, siete stati meravigliosi grazie della vostra presenza qui a Barile, nel cuore del Vulture, nel polmone verde, in Lucania, in Basilicata. Sono stati dei giorni abbastanza turbati, nel senso che abbiamo dato il massimo e voi ci avete supportato, non ci avete abbandonato, quindi è una cosa veramente bellissima. Noi vi ringraziamo della presenza e voi qua siete come ospiti e non come turisti, quindi a disposizione. Veramente anche per la bellissima festa che abbiamo passato a Cristiana, ci siamo sentiti accolti e un po' anche popolati, quindi grazie davvero. Grazie, no no, grazie a voi, grazie appunto al popolo di Instagram e di Facebook che ci segue, grazie, grazie a voi e vi aspettiamo poi in Lucania. E adesso siamo pronti per la prossima intervista. Assolutamente, andiamo. Assolutamente, grazie a tutti.